Musica Approvata la mozione di sfiducia, bagheria senza sindaco e consiglio comunale. Presentati stamattina a Palermo i candidati del collegio insulare della lista l'altra Europa con Sipras. Stop ai trasporti su gomma in tutta Italia, soprattutto da e per la Sicilia. A voi tutti bentrovati ad una nuova edizione di Media News appuntamento di sabato, 22 marzo. Approvata la mozione di sfiducia, bagheria senza sindaco e consiglio comunale. Nei prossimi giorni arriverà un commissario fino alle prossime elezioni. La sindacatura di Vincenzo Lomeo è arrivata al Capolinea. Ieri sera in consiglio comunale è stata votata la mozione di sfiducia con 20 voti favorevoli, 6 contrari, 4 gli assenti. Sciolto il consiglio comunale. Adesso arriverà un commissario fino alle elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali. È stata una seduta lunga e animata con il pubblico che ha affollato il parterre e che ha sottolineato con dissensi, applausi e fischi l'andamento dei lavori. Il presidente, Caterina Vigili, ha dovuto faticare non poco per tenere a bada i presenti. All'inizio dei lavori è stato ricordato con un minuto di silenzio l'imprenditore che giovedì scorso si è tolto la vita. Il voto è stato nominale e palese. 20 voti che hanno chiuso un'esperienza non esaltante. Io non so quello che è meglio per la città. L'assenza di una guida è comunque un danno. Il peggior sindaco è sicuramente migliore di qualsiasi commissario, ha detto il sindaco, l'Omeo, prima di uscire dall'aula e quindi prima del voto. È una sconfitta per tutti. Voglio comunque ringraziare, ha detto ancora, tutti voi consiglieri, anche se con alcune critiche si è scesi molto sul personale. Siamo qui tutti per fare politica con onestà e dedizione. Voglio ringraziare i collaboratori, in particolare l'assessore Mineo. L'Omeo, dopo aver ringraziato anche il segretario generale e dirigenti, ha lasciato l'aula prima del voto, stringendo la mano a tutti i consiglieri. Presentati stamattina a Palermo i candidati del collegio insulare della lista L'altra Europa con Sipras. Ascoltiamo le interviste. Come mai ha deciso di candidarsi? È una sfida molto bella. La sfida è quella di contribuire insieme a tanti altri amici e compagni a cambiare l'Europa. Sembra un impegno grosso, ma è un impegno che dobbiamo fare, perché se non riusciamo a cambiare l'Europa, se non la riportiamo nei territori, nelle piccole e medie imprese, negli artigiani, nei commercianti, nei professionisti, questa Europa non ce la fa, perché questa Europa oggi è stata gestita soltanto dalle lobby, dalle banche, dalle multinazionali. Noi riteniamo che la Sicilia, l'Italia, può avere un ruolo nel mondo soltanto se i territori esprimono il meglio di se stesse. In Italia lo possiamo fare con la cultura, con il turismo, con le piccole e medie imprese che abbiamo, con quello che riusciamo a produrre, con il Made in Italy. Allora bisogna dare voce a queste forze, partendo dal basso. E questa lista, la lista dell'altra Europa, ha questo impegno grossissimo di dare voce ai territori. Potenziare una lista che è innovativa, fortemente basata sulla partecipazione dei cittadini e delle cittadine, che raccoglie le istanze e dei movimenti che possono dare all'Europa il senso e il significato di cui abbiamo fortemente bisogno. E poi per dare continuità a un lavoro iniziato da anni con Rita Borsellino e che merita sicuramente di essere sviluppato, guardando ai bisogni reali delle persone a partire dal lavoro. Per quanto riguarda la raccolta firme, a che punto siete? Mi pare abbastanza interessante, anche perché la lista ha scelto di raccogliere le firme, evitando soluzioni furbesche ed è anche un'occasione per proporsi alle cittadine e ai cittadini che stanno rispondendo con grande entusiasmo e questo ci sorprende, ci fa molto 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 piacere e ci dà speranza. Io mi sono candidata da componente dei movimenti, non ho mai fatto politica all'interno dei partiti ma da sempre mi batto per l'antimafia, per i beni comuni, per l'acqua, nel formo dei movimenti per l'acqua. Credo che questa sia una scommessa importantissima, quella della lista Tsipras, perché ci consente di portare i nostri temi, le nostre battaglie, all'interno di un raggruppamento politico che si propone di ribaltare i rapporti di forza in Europa. Il 27 marzo prossimo il TAS Sicilia dovrà pronunciarsi su ricorso relativo al MUOS di Niscemi, che contesta la marcia indietro del governo Crocetta in materia di autorizzazioni dell'impianto. Ascoltiamo in merito il giornalista Antonio Mazzeo. Il Tribunale amministrativo dovrà decidere in merito se la Regione, sia sotto il governo di Raffaele Lombardo, sia con Rosario Crocetta, aveva il potere per autorizzare lavori che secondo il movimento non MUOS, le comitati e le amministrazioni comandali non aveva. Per noi riteniamo che siano state violate normative urbanistiche, siano state violate una serie di leggi e la stessa Costituzione, per questo abbiamo fatto ricorso su queste autorizzazioni. Crediamo come è già successo il 9 aprile dello scorso anno, quando il Tar ci ha dato perfettamente ragione sul fatto che non si poteva assolutamente impedire alla Regione di revocare quelle autorizzazioni. Crediamo che sia arrivato il momento buono per riconoscere l'illegittimità e i crimini che sono stati commessi autorizzando lavori devastanti per una riserva e che avranno degli effetti enormi sulla salute delle popolazioni. Il MUOS va smantellato senza se e senza ma. È stato categorico il Presidente della Commissione Ambiente dell'Ars, il 5 Stelle Giampiero Trizzino, con i senatori della Commissione Ambiente e Sanità del Senato, sbarcati alla Prefettura di Caltanissetta per accogliere elementi sul MUOS. Il contestatissimo impianto radar americano di Niscemi, messo sotto accusa per i pericoli cui potrebbe sporre le popolazioni del luogo. All'audizione erano presenti oltre ai senatori a Trizzino anche il Presidente della Regione Crocetta e gli assessori regionali alla Sanità e all'Ambiente rispettivamente Borsellino e Lobello. Anche lo stesso Crocetta ha ammesso che la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità che ha spalancato le porte alla costruzione dell'impianto è carente. Stop ai trasporti su gomma in tutta Italia, soprattutto da e per la Sicilia. Torna il blocco dei tir dell'Aias. Dalla mezzanotte di domani gli autoarticolati si fermeranno per almeno cinque giorni. Il pomo della discordia, la mancata erogazione delle risorse relative all'eco bonus. Giovanni Mercadante, l'ex deputato di Forza Italia da otto anni sotto inchiesta per mafia, è stato condannato a dieci anni e otto mesi. La decisione è arrivata al termine del nuovo processo d'appello disposto dalla Cassazione dopo l'annullamento della sentenza che lo aveva assolto. Medico radiologo molto conosciuto in città Ugino del boss di Prizzi Tommaso Cannella, Giovanni Mercadante era stato arrestato nel 2006 perché accusato di essere uno dei punti di riferimento di Bernardo Provenzano che avrebbe anche visitato. Al via Palermo ama Palermo. Per tutto il fine settimana in piazza Politeama è una cittadella dedicata al sociale, alla solidarietà, alla medicina umanitaria, al senso civico e anche al cibo. Sentiamo. Due giorni dedicati al sociale, alla solidarietà, alla medicina umanitaria, al senso civico ma anche al gioco, all'intrattenimento e alla cultura. Al via questo fine settimana la manifestazione intitolata Palermo ama Palermo in piazza Politeama. Ci sono i gazebo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Università degli Studi di Palermo. Persino un angolo food dove assaggiare il nuovo panino con la milza creata da Ninu Ballerino per la manifestazione. Previste anche le esibizioni del nucleo cinofilo che simulerà la ricerca di materiale infiammabile e la scoperta di una persona rimasta sotto le macerie. Tra le altre cose si potrà anche scrivere un pizzino d'amore per la città e depositarle in una grande urna trasparente. Domenica alle 15 e 30 i foglietti verranno estratti e letti da Sasa Salvaggio e messaggi d'amore più belli verranno premiati dagli sponsor. Eurospin regalerà 50 buoni spesa da 60 euro ciascuno e il Palermo Calcio 10 biglietti per la partita Palermo-Siena. L'ultima giornata, domenica, si aprirà con la sfilata di auto e moto d'epoca con modelli che ripercorreranno la storia dei motori dall'anteguerra al giorno d'oggi. Le auto partiranno da Piazza Croce e sfilando per Via Libertà raggiungeranno Piazza Verdi. Chiuderà Palermo ama Palermo alle 17 un secondo concerto della fanfara dei Carabinieri con la corale dei Vigili Urbani sul palchetto della musica. I gazebo saranno aperti sia sabato che domenica dalle 10 alle 22. L'ingresso è libero. Oggi e domani presso i locali della Buciria Place a Palermo si terrà la mostra dell'artista Vera Fardella. Le interviste. Insieme a mia moglie Maria Di Bona abbiamo deciso di creare il Buciria Place in questo bellissimo palazzo storico, la prima residenza di Vincenzo Florio a Palermo. È un posto fantastico dove c'è una storia incredibile, di qua veramente sono passati tantissimi artisti sia nel periodo spagnolo, arabo, normanno. La Buciria è un posto per noi molto speciale. Crediamo che la rinascita culturale debba partire da qui. Per questo motivo noi abbiamo creato questo spazio, appunto il Buciria Place, dove diamo spazio a tutti gli artisti sia affermati che emergenti. Infatti noi oggi e domani avremo la mostra di questa bravissima artista Vera Fardella che fa un contemporaneo molto interessante, da vedere, assolutamente da vedere. In una Palermo dove è difficile per noi artisti emergere, Buciria Place ci dà l'opportunità di farci esibire con i nostri quadri. Infatti ringrazio Maria e Maurizio che mi stanno dando questa opportunità di mettere appunto in mostra i miei dipinti, nei quali io cerco di esprimere i miei sentimenti, le mie emozioni che ho provato in diversi momenti della mia vita. La mia vena artistica parte insomma con me da quando sono nata e comunque si è sviluppata successivamente e adesso insomma va a ruota libera. Ho cominciato e adesso mi viene difficile smettere. Spero che il pubblico e la gente possa gradire, possa capire e comprendere quello che ho io dentro. Questo spazio per me è stato, è uno spazio fantastico anche perché ognuno di noi si può esprimere come vuole. Maria e Maurizio sono delle persone meravigliose che ti lasciano libera di poter esprimere tutta, poter esprimere l'arte. L'U07 ha dato la possibilità a tanti artisti veramente di esprimersi e di portare in giro quello che loro hanno dentro. Io generalmente faccio musica siciliana, ho iniziato fin da piccola ad amare questo genere e non è facile poter cantare in giro questo tipo di musica. Quando ho conosciuto Maurizio mi ha dato anche la possibilità di fare queste serate, di portare avanti il mio progetto, sono veramente rimasta entusiasta. Apre al pubblico oggi per la prima volta il parco del castello Ottiveggio. Inaugurate con una grande festa di primavera le visite a una parte del giardino che circonda la struttura realizzata da Michele Ottiveggio. Oggi l'ingresso al parco è gratuito e per raggiungere il castello è a disposizione del pubblico una navetta anch'essa gratuita dell'AMAT che farà la spola dalle falde del Monte Pellegrino nei pressi della rotonda di Largo Sellerio alla fine di via Pietro Bonanno, zona fiera del Mediterraneo, mentre in parallelo si svolgeranno le visite al castello. Da domani in poi invece l'accesso al parco sarà a pagamento. Segmenti di infinito. È il titolo della raccolta di poesie edita da Vera Canam che sarà presentata oggi alle 17.30 presso lo spazio cultura della libreria Macaione in via Marchese di Villa Bianca, 102 a Palermo. Ascoltiamo l'autrice Maria Favarò. È stata la volontà di volere condividere con gli altri pubblicando queste poesie i stati danni miei personali e comunque sia vissuti e convissuti con le persone mai più vicine e rendere partecipi anche le persone intorno a me. Ora è natato sicuramente la poesia rappresenta la maniera più diretta per poter esprimere i vari stimoli esterni e interni che ci convolgono e tutte le energie che ci portano poi ad avere questi percorsi emozionali. Ed è proprio questo che vado a descrivere nel mio libro, in questa raccolta di poesie che praticamente è nata nel corso degli anni. Io per questa cosa devo innanzitutto ringraziare la mia casa editrice, la Vera Canam, che ha creduto in me e la giornalista Mariana Labarbera, la cui collaborazione è stata fondamentale per la stesura di questo libro. Si terrà a Bagheria una missione popolare per l'anno Mariano 2014 organizzata dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata e dal suo parroco Don Massimiliano Purpura. La missione sarà animata dalla giovane comunità degli apostoli e apostole della vita interiore, con un ricco programma che coinvolgerà l'intera cittadinanza. Domani nella parrocchia dell'Immacolata i missionari saranno presentati alla comunità bagherese durante la messa delle ore 18 e 30. Sempre in chiesa, alle ore 20 e 30, terranno la prima grande serata aperta a tutti, dal titolo Fatti di Gioia. Domani a Palermo stagio di Esmil Diaz, ballerino e musicista cubano. Dalle 16 e 30 presso la palestra Ultreia Fitness di Viale delle Alpi al numero 50, a seguire, dalle 20 in poi, la serata latina Villa Portpartanna, a Partanna Mondello, con lo show che vedrà protagonista lo stesso Diaz in esibizioni di danze cubane e percussioni. Per maggiori informazioni, Pablo Timba, 320-710-5150, il quale curerà anche il DJ set caraibico dell'evento. Dopo il notiziario andrà in onda la rubrica settimanale Media News Extra, curata da Marilisa Giammona. In questa puntata l'intervista al documentarista Marino Riccardo Cingillo. E con quest'ultima nota è davvero tutto, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.